Il 9 marzo è la data scelta dalla società internazionale di nefrologia come giornata internazionale del rene alle malattie renali. Sulle malattie renali ci si concentra in modo particolare per quanto riguarda la diffusione di notizie all'opinione pubblica in questa giornata. Malattie renali cui si dedicano naturalmente gli specialisti e cui si dedica alla ricerca. Noi vogliamo occuparci di questo nella puntata odierna di 33, qui vi do il benvenuto e qui do soprattutto il benvenuto al mio ospite il dottor Enrico Schieppati che è nefrologo e responsabile dell'unità malattierare dell'ASST Papa Giovanni XXIII. Buonasera e grazie dell'invito e questo è un giornato importante per i nefrologi e per i pazienti. Grazie, grazie davvero per essere con noi. Vi invito come sempre a contattarci se lo volete, c'è un numero verde gratuito a vostra completa disposizione, è 800-110-445. Dottor Schieppati, le malattie renali rappresentano un problema di salute pubblica. Ci spiega perché? Innanzitutto le malattie renali non sono poche, sono numerose e si è calcolato in diversi studi che affliggono almeno il 10% della popolazione a qualche livello, non tutto dello stesso modo, non tutto è con la stessa gravità, però un grado o l'altro di danno renale è documentato nel 10% della popolazione. Alcune di queste malattie sono malattie che vengono a causa di un disordine immunologico, altre sono malattie determinate da difetti genetici o sono malattie congenite e malformative dell'apparato urinario, ma una quota importante di malattie renali si associa ad altre condizioni molto comuni come il diabete, l'ipertensione, l'obesità. In quest'anno la Società Internazionale di Nefrologia che organizza questa giornata mondiale del rene ha avuto l'interesse a sottolineare il legame tra le malattie renali e l'obesità, non perché l'obesità sia a causa di queste malattie, ma laddove ci sia anche un iniziale danno oppure a causa delle condizioni che ho detto prima, ipertensione e diabete, ci sia un'importante alterazione della funzione dei reni, l'obesità è un fattore che aggrava questa condizione in maniera importante, quindi stabilire che l'obesità è un fattore di rischio importante in queste giornate sensibilizza intorno a questo tema. Torno, se me lo permette, Otto Schiappati, sulla distinzione che stava facendo lei, cioè malattie che possono essere causate da un difetto genetico e sui quali quindi il nostro stile di vita e la nostra scelta può poco intervenire per prevenire questi problemi, altre invece che sono legate strettamente o comunque hanno una relazione molto forte con i nostri stili di vita. Possiamo partire da questi per parlare di prevenzione, se d'accordo? Allora, diciamo che quando si parla di malattie renali croniche il termine prevenzione, come si intende per altre condizioni, è un po' meno pregnante, però è certamente un'adozione di stili di vita salutari ha un ruolo molto importante nel rallentare l'evoluzione di queste malattie, in particolare in quelle condizioni come abbiamo detto, come l'ipertensione e il diabete che hanno anche a esse un sottofondo di genetico, di familiarità, ma qui molto dipende come uno si comporta e le abitudini che assume. Quindi curando con gli stili di vita queste malattie si curano anche le malattie renali in modo significativo e poi ci sono anche altre abitudini forse meno note, a cui si sottolineano meno, per esempio l'uso di farmaci. Ci sono farmaci che vengono usati talvolta con una certa leggerezza, soprattutto farmaci antinfiammatori che le persone anziane magari usano giustamente perché sono afflitti da artriti o da malattie degenerative dell'apparato scheletrico che li inducono quando anche le persone anziane, che sono quelle che più spesso hanno anche quelle condizioni che abbiamo detto prima, aggravano le loro condizioni con l'uso di questi farmaci. Quindi la prevenzione in questo caso vuol dire astenersi dal adottare degli stili di vita o abitudini o uso di farmaci che possono essere nocivi. È chiaro dottore, dovremmo avere una prima telefonata. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Sono Mauro da Bergamo. Buonasera Mauro, ci dica. Volevo fare una domanda al professore. Allora io sono un paio di settimane circa che ho un dolore insistente, inizialmente a fasi diciamo un po' sì, un po' no. Adesso negli ultimi giorni, praticamente quasi tutto il giorno, specialmente oggi, le dico che da stamattina ho un dolore ferificante, praticamente dietro alla nuca. Da dove finisce il collo inizia la testa vicino all'orecchio destro. È come se, non so, avessi qualcuno che mi puntasse uno scalpello dietro alla testa. Il mio medico di base potrebbe essere, non so, il nervo vago che potrebbe essere magari un po' infiammato così, però io pensavo, sentivo chiaramente la sua illustre opinione, se magari era meglio fare un attacca per vedere se c'era qualcosa di più serio o qualcos'altro. Ecco, che aspetto una sua gentile risposta. Ci stiamo occupando di un altro argomento, perché stiamo parlando di Reni questa sera. Un suggerimento che possiamo dare comunque al nostro telespettatore? Un dolore così importante sicuramente e così continuativo vale la pena di essere indagato. Io forse piuttosto che dare il consiglio per telefono, di fare l'attacco, magari è eventuale consultare uno specialista prima di, e che poi magari può indirizzarlo verso l'esame strumentale più idoneo. Più idoneo, esatto. Quindi Mauro, auguri naturalmente per la soluzione del suo problema. Allora, giusto per trovare un aggancio, provi la pressione. Non è un dolore caratteristico di chi ha la pressione alta, la cefalea non è così frequente in chi ha la pressione alta come spesso si dice, però visto giusto per trovare un aggancio. Grazie al nostro telespettatore, aspettiamo altre telefonate, ci stiamo occupando di malattie renali. Questa sera 800-110-445 è il nostro numero verde. Però volevo cogliere uno spunto che arriva dalla telefonata, ci sono sintomi delle malattie renali, dottore? Questa è un'ottima domanda, perché diciamo in grosso modo i reni fanno male in due occasioni in particolare. Quando si ha una colica renale, cioè si forma un calcolo nelle vie urinarie, questo tentando di passare attraverso l'uretere, provoca uno spasmo doloroso e chi ha avuto una colica renale, non se lo dimentica per tutta la vita perché è un dolore considerato tra i più forti e violenti e che ha una caratteristica che nel momento in cui il calcolo viene eliminato passa, scompare il dolore altrettanto e c'è veramente una sensazione di sollievo notevole. E questa è la colica renale. Oppure quando, e questo succede per esempio più spesso nelle donne, nelle giovani donne che nei maschi, si ha una cosiddetta pilonifrite acuta che è un'infezione acuta dell'apparato urinario che coinvolge il rene. Le infezioni urinarie più comuni in genere sono le cistiti delle ragazze o delle donne e queste sono infezioni a livello vescicale prevalentemente, mentre la pilonifrite è proprio un'infezione del rene che si infiamma e diventa dolente. Però queste sono due condizioni particolari. La grande parte delle malattie renali, anzi la stragrande parte delle malattie renali non ha sintomi direttamente riconducibili al rene. Sono sintomi indiretti o talvolta nessun sintomo. E questo è un problema perché non è una cosa che succede di frequente. Però ci è capitato tante volte di assistere o di visitare persone, magari anche giovani, con gradi di insufficienza renale molto importanti o comunque sicuramente importanti, che non avevano mai avuto nessuna idea di quello che poteva essergli successo. Per quello tante volte capita per esempio che il primo riscontro di una malattia renale avvenga casualmente. Per esempio il riscontro di proteine o sangue nelle urine ad un esame delle urine fatto per una visita di unità sportiva, una volta c'era la visita di leva, dove a tutti veniva fatto un esame e talvolta, non so quante volte poi a questo veniva dato seguito con un consiglio di farsi rivedere. Però è capitato tante volte di sentire persone, ormai più di una certa età perché la leva non c'è più, di aver scoperto di avere un'anomalia urinaria e questo è il primo, certo non è che tutte le malattie renale non abbiano sintomi, alcune forme di malattie renali si manifestano per esempio con gonfiore ai piedi, riduzione della quantità di urina, comparsa di lesioni cutanee, ci sono tante possibilità, però diciamo lì, quello che ti dice mi fa male la schiena quindi potrebbe essere il rene, non è una cosa caratteristica. Sentiamo la telefonata, pronto? Pronto? Buonasera signora. Buonasera. Da dove ci chiama? Latti Maria Dele. Da dove? Latti Maria Dele di Oggiò, non provincia di Lecco. Bellissimo, si dica. Volevo chiedere al professore, mio marito ha avuto una disfunzione renale e è andato a finire in dialisi perché purtroppo è mancato dopo cinque anni di cure. Per i miei figli possono esserci dei problemi renali o... Questa è un'ottima domanda, alcune malattie renali hanno una familiarità, altre hanno un vero e proprio modalità di trasmissione ereditaria. Diciamo che è prudenza in una famiglia di persone in cui c'è stato un paziente che ha avuto una malattia renale... E disfunzione, adesso io so che ha avuto una disfunzione, era in cura all'ospedale di Lecco. Sì, però diciamo la disfunzione vuol dire che non funziona bene i renali, ma c'è sempre una causa. Sì, sì, quello lo so. In genere si cerca di arrivare alla diagnosi, tante volte non si riesce a dire si tratta di un agglomerulone frite. No, lui non mangiava, non mangiava, abbiamo fatto degli esami del sangue, così... Ed era già in una... Ed era già in una... Esatto, questo... Torniamo un po' a quello che dicevamo prima. Non mangiava ma stava bene. Allora, diciamo che siccome fare una valutazione se c'è o non c'è una malattia renale in una persona è una cosa semplicissima e estremamente poco costosa, perché consiste nel fare un prelievo per misurare la creatinina nel sangue, che è il marker. Sì, 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 stiamo parlando dei suoi bimbi o dei suoi figli o dei suoi figli. Sì, sì, sì. Lo imparate tutte. E fare l'esame delle urine sono due cose molto semplici. Quindi questo suggerimento che il dottor Schepati dà per i suoi figli, signora. Allora, se uno ha una familiarità o ha una storia, verificare se... bisogna conoscere la malattia in genere, si sa se è una malattia che ha una familiarità oppure no, talvolta non si conosce per nulla, perché come in questo caso, la signora dice il marito è arrivato alla fase terminale della funzione renale o comunque una fase molto avanzata, a quel punto in genere, in particolare se non c'è una malformazione che si vede con un'ecografia, non è una malattia renale policistica che è una malattia invece... No, no, non c'era niente. No, no, appunto, sto dicendo. Magari i reni sono piccoli e perché qui torniamo nel campo della diagnostica, un esame principe per fare diagnosi di molte malattie renali è la biopsia renale, prelievo di un pezzettino di reni. Però per fare questa procedura ci devono essere alcune garanzie, alcune caratteristiche per cui nelle fasi molto avanzate in genere non si pratica perché può essere pericolosa. Ora, a quel punto, e non è piccola la quota di pazienti che arrivano alla dialisi, cosiddetti senza diagnosi, cioè perlomeno qui non si è fatta una diagnosi, qui possono essere aperte tante condizioni, il fatto di fare uno studio anche nei figli, non sto dicendo che c'è una probabilità di averla, però siccome costa veramente poco, perché un esame delle urine, una creatinina, è veramente pochissimo. Sono due, questo è uno dei grandi, diciamo così... Vantaggi da un certo punto di vista? Sì, vantaggi, ora le campagne di screening di massa non sono tanto comuni, però per esempio l'Istituto Negri con l'Asla di Bergamo, quando si chiamava Asla di Bergamo e l'ospedale di Bergamo hanno fatto alcuni anni fa proprio uno screening attraverso i medici di famiglia per verificare l'incidenza di alterazioni urinarie o di aumento, era di alterazioni urinarie perché si trattava solo di misurare le urine e quindi, e questo è stato molto utile perché ha visto il coinvolgimento di molti medici di famiglia e venivano però non fatti a tappeto ma impazienti che avevano più di una certa età e che avevano magari fattori di rischio come l'ipertensione al diabete. Allora il consiglio che possiamo dare alla signora, la possibilità c'è, però ecco questo naturalmente è limitatamente al contesto che è quello di una trasmissione televisiva però il suggerimento è di rivolgersi al suo medico per chiedere se è il caso di sottoporre i suoi figli ad un controllo semplicissimo della creativine tramite un esame del sangue e un esame delle urine, per cui qua arriveremmo già ad una rassicurazione, sarà così senz'altro. Grazie signora, buona serata a lei, altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Francesco di Parosco. Ci dica Francesco. Dica pure. Volevo chiedere al dottore, per mantenere i rini diciamo in buono stato, in buona salute, cosa c'è di vero sul discorso dell'acqua? Io bevo parecchia acqua, tipo lauretana, tipo... Questa è una domanda interessantissima perché poi, non so quanto, come diceva giustamente Francesco, quanto c'è di vero sul tipo di acqua che beviamo? Non c'è di vero perché... Grazie Francesco. Sentiamo. Diciamo che dati scientifici sul... Parliamo di persone sane. Sane, certo. Quindi persone che stanno bene, come magari sono sportivi oppure... Quindi non parliamo di quelli che per esempio, di cui abbiamo accennato prima, che hanno avuto una calcolosi renale in cui invece bere molto è terapeutico in pratica. Allora nel caso delle persone sane, la quantità di acqua che si deve bere non è fissata da uno studio che dice in modo specifico quanto si deve bere e non è che bere molto o bere poco aumenta o diminuisca la funzionalità dei reni, perché i reni... una cosa che tutti pensano è che i reni servono per eliminare le scorie, che è vero, ma in realtà la vera funzione dei reni viene chiamata di regolazione. Il nostro corpo contiene il 60% di acqua, questa acqua è distribuita come fosse in tanti compartimenti e dentro questi compartimenti ci sono una certa quantità di sali. Il rene deve mantenere le proporzioni tra il contenuto di sali e di acqua nel nostro corpo in modo perfetto, regolare. Quindi se noi introduciamo 5 litri di acqua e rimineremo 5 litri di acqua. Se non beviamo per nulla, per esempio attraversiamo il deserto con una borraccia, urineremo pochissimo, ma la nostra funziona renale è preservata. Poi si arriva alla oasi, uno beve e riprende. E si rende a posto. Diciamo che è buona norma non restringere, ma soprattutto questo vale per i bambini e per gli anziani, in particolare nei momenti in cui magari hanno condizioni di disidratazione come la febbre alta o un disturbo gastrointestinale. Però non è che bere 10 bicchieri o 5 faccia una grande differenza in termini di funzionalità renale. E per quanto riguarda il tipo di acqua da bere, io dico sempre che l'acqua migliore a Bergamo è l'acqua del sindaco. Però va bene, cioè non ci sono in realtà contenuti, anche per esempio il contenuto di sale nelle acque normali, i minerali che vengono vendute sono chiamate oligominerali proprio perché contengono pochi sali. Ma anche se non lo fossero, il sale, il sodio contenuto in un litro di acqua di merce non è un contenuto di sodio perché, torniamo sull'argomento della prevenzione, ridurre il consumo di sale nei pazienti che hanno una malattia del reno importante o chi ha la pressione alta. Però non è dall'acqua che si fa attenzione, si fa attenzione ad altri alimenti che contengono il sale per conservarli ma non dall'acqua. Certo, quindi un tipo, in assenza di problematiche specifiche e particolari, un tipo di acqua vale più o meno l'altro tra quelli che sono i miei di terrorismo. e anche la quantità non ha una rilevanza in una persona sana. Addirittura si parlava un tempo che per esempio gli atleti, durante gli sforzi, parliamo di atleti che fanno la maratona o sforzi prolungati, dovessero bere moltissimo. In realtà può essere pericoloso in quelle circostanze bere moltissimo perché si ha una condizione che si chiama iponatremia da stress, da esercizio, può essere pericoloso. Sono casi veramente particolari, però pertanto per dire che il mito dell'acqua da bere non è sempre fondato. Grazie Francesco, un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama signora? Da Bergamo. Dica pure. Volevo chiedere se la menzione di notte così a interruzione è molto lenta, è l'indice di qualche disfunzione o può essere normale quando durante il giorno invece è tutto normale? Allora, può capitare a molte... Per una donna di 88 anni quasi. Come una signora di 88 anni può fare tutto quello che vuole. Tutto quello che vuole, assolutamente. No, diciamo che può capitare che durante il giorno ci sia una minore produzione di urina rispetto alla notte perché la posizione di sdraiato favorisce il ritorno dei liquidi al cuore, quindi c'è un aumento, diciamo così, tra virgolette, della funzionalità dei reni e quindi un aumento, un modesto aumento della produzione di urina. Quindi questo è un fenomeno che si verifica. Però in genere i disturbi legati, per esempio, al fatto di urinare tante volte durante la notte, questo soprattutto nei maschi, in genere è legato a un problema urologico, non di funzionalità renale perché il rene produce l'urina in continuazione. Poi l'apparato urinario decide quando se ne vuole liberare a seconda della sua condizione, per esempio. Sì, però io dico, volevo segnalare una minzione non regolare come quella di, cioè tutti un getto come di giorno, meno cosa notte, non la quantità, era il punto. Questo penso sia un problema più di tipo urologico, può anche essere legato a una disfunzione nervosa della vescica, questo avrebbe valutato, però è poco probabile che si tratti di problemi di carattere renale. Sì, se è una produzione costante, no. Non lo è, non lo è. Grazie signora per il suo intervento, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, io volevo fare una domanda al dottore. Mi dice da dove ci chiama? Come scusi? Da dove ci chiama? Da Romano di Lombardia. Romano, dica pure. Allora, mia mamma è ottantenne, è portatrice di pacemaker, è un'ipertesa da anni. Ultimamente gli ho fatto fare delle analisi e mi risulta che ha un'urea di 133, una creatinina di 2,11 e già lei ha un'insufficienza renale cronica e il potassio di 5,09. Volevo sapere se era una cosa da preoccuparsi nel senso che potrebbe finire in dialisi oppure se dovevo correggerla con un'alimentazione che sto già facendo adesso oppure con una terapia idonea. La ringrazio. Grazie a lei. Allora, una domanda complessa. Molto dipende se questo valore è un valore che è già conosciuto nel recente passato o è un valore riscontrato per la prima volta e quindi nel primo caso non che sia meno preoccupante perché 2 vuol dire comunque una riduzione importante della funzionalità renale. tuttavia se si tratta di una forma cronica legata a una persona anziana che ha problemi di tipo cardiovascolare potrebbe anche essere una forma di danno cronico che non ha tendenza ad evolvere nel corso del tempo, cioè la sua creatinina rimane così e così la tiene, non è che questo comporti in realtà dal punto di vista che si tratta di un danno cronico. Se invece è una cosa che prima non c'era e che è comparsa da poco questo va valutato. Va valutato. Va valutato attentamente. Per quanto riguarda la dieta e la terapia, la terapia delle forme croniche di malattia renale che non siano causate da un disordine immunologico, quindi sono forme legate come abbiamo detto all'ipertensione o anche al semplice invecchiamento più qualcos'altro. La terapia di queste malattie in genere è mantenere la pressione arteriosa nei limiti della normalità, correggere alcune alterazioni metaboliche che si instaurano per esempio a carico del metabolismo del calcio e del fosforo, del potassio. Il potassio 509 per una paziente che ha un'insufficienza anale cronica è un po' il di sopra della norma, ma non è tanto il di sopra della norma. Quindi lì si tratta di vedere com'è la sua terapia e eventualmente aggiustarlo un pochino. Mentre per quanto riguarda l'alimentazione, diciamo, una persona anziana già non mangerà tantissimo, presumo, quindi una dieta che riduca un po' il consumo di carne rossa magari variegata negli altri alimenti e soprattutto attenzione al sale è quanto può... Di meglio si possa fare dal punto di vista dell'alimentazione. Sì, esatto, senza portarla a privazioni particolari. Poi certo se ha il potassio che tende a salire, perché probabilmente i pazienti cardiopatici spesso prendono farmaci che riducono l'eliminazione del potassio, quindi questo può creare un po' di problemi. Allora in quel caso magari alcuni alimenti ricchi di potassio come la frutta secca o le banane o le patate devono essere un po' ridotte, però questo va valutato un po' anche in base alla terapia che sta seguendo. E soprattutto valutare se questi valori, come diceva il dottor Schiapati, sono per la prima volta così... Per la prima volta merita più attenzione. Se sono già conosciuti e sono stabili su questi valori può far parte del quadro clinico della paziente. Grazie alla vostra telespettatrice, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera, siamo da Casa Tenovo, volevo fare una domanda in merito alle acque calciche. In presenza di osteoporosi in associazione alla vitamina D spesso viene consigliata l'assunzione di un'acqua calcica. Chiedevo se l'assunzione di queste acque a lungo periodo, sia durante i pasti che fuori pasto, possano in qualche modo incentivare un problema di calcolosia renale. In generale no, se uno non ha una tendenza alla calcolosia... A parte che, quindi, diciamo così, l'introduzione, l'inconsumo di un'acqua ricca di calcio in qualche modo rappresenta una supplementazione alimentare, anzi c'è pure una pubblicità che dice che l'acqua è un alimento. È vero, stiamo parlando di quell'acqua. Quell'acqua, adesso io non mi ricordo neanche qual è, quindi non faccio pubblicità. Quindi introdurre un'acqua che è ricca di calcio è come se uno, nell'alimentazione quotidiana, introducesse il calcio. Nel caso della calcolosi da ossalato di calcio, che è quella più frequente, non è prescritto una riduzione del consumo di calcio in realtà, ma di cibi che contengono l'ossalato, anche se non è facile. Perché l'introduzione di calcio con l'alimentazione riduce l'assorbimento intestinale dell'ossalato, che è la parte cattiva, diciamo così, del calcolo. Quindi un'alimentazione che sia moderatamente ricca di calcio non è necessariamente un fattore di rischio per avere una calcolosi renale. Quindi tantomeno se uno beve un'acqua che è ricca di calcio. Perfetto. Va bene? Grazie, signora. Buona serata. Buona serata a lei. Aspettiamo altre vostre telefonate all'800-110-445. Ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità.